Sono Marcello Grandesso, sono un fisarmonicista e insegnante di fisarmonica, appunto, qui al Popcorner. È abbastanza lungo il discorso. Forse è una gara di quei go-kart, una pista vera, quei go-kart vari... Ho fatto un lancio col paracadute, sì. E qui vedi i panorami che non puoi mai vedere. Spettacolare! Sì, a 4.000 metri a dicembre era un po' freschetto. Mi dà un forte senso di stabilità. Ecco tutto qua. Quindi una delle prime cose che faremo è quella di trovare il Do, quindi il nostro riferimento principale nella mano destra e il Do nella mano sinistra. E poi comincieremo a fare qualche nota, quindi appoggiamo le dita, le cinque dita, dal Do al Sol e cerchiamo di suonarle tutte. Lo stesso nell'altro verso del Mantice, quindi già applicando alcune tecniche base, insomma, della fisarmonica. Quindi la prima lezione è basata sulla sensibilità, sull'approccio, anche semplicemente trovare la sistemazione adeguata delle cinghie e della postura. Molto importante anche non sbagliare postura, quindi verrà visionata in particolar modo questa particolarità. E dopo dipende appunto da allievo allievo, si potrà già leggere eventualmente qualche nota nella partitura e quindi applicarla nello strumento. Quindi partendo soprattutto dalla mano destra. Se l'allievo è particolarmente sveglio e motivato, si potrà procedere anche con la mano sinistra. Ciao!